Tra i maggiori problemi che riguardano le tecniche e i materiali usati come combustibili dagli etruschi c'è quello dell'olio. L'olio, si è sempre detto, sarebbe stato usato maggiormente dai greci e dai romani e sarebbe arrivato in Etruvia come sostanza per illuminare solo con la conquista romana. Gli etruschi conoscono già l'olio attraverso le importazioni di anfore SOS dalla Grecia, ad esempio già dal VII secolo a.C. e almeno nelle lucerne, tra i più antichi e rarissimi esemplari di lucerne ad olio, abbiamo questi due esemplari che provengono da Campiglia Marittima, dal territorio di Populonia, databili alla fine del V e inizio del IV secolo a.C. Si tratta di lucerne da minatore che venivano usate all'interno delle miniere, dei luoghi dove le torceligne producevano troppo fumo e quindi avrebbero intossicato i minatori e, come dicono le fonti stesse, ad esempio pensiamo a Plinio il Vecchio e la storia naturale, le miniere stesse, le lucerne stesse servivano anche per scandire i turni in assenza della luce naturale e quindi quando finiva l'olio si poteva procedere alla sostituzione della squadra e alla fine del turno.